Sono Francesco Villella, ho 34 anni, vengo da Milano ma sono originario della Calabria, Calabria Saudita, quindi vivo da molti anni qui in Lombardia, faccio lo showman da molti anni, da oltre 15, ho iniziato con i villaggi turistici, poi ho fatto qualche locale, qualche festa di piazza e scrivo, mi piace scrivere, faccio l'imitatore, il cantante e chi più ne ha più ne tolga. Qui porto un medley di canzoni italiane pop, nazionalpopolari, con più cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Ho deciso di scrivere perché mi sembrava una cosa molto interessante, quando trovo anche una certa visibilità, poi come vada vada l'importante è divertirsi ed emozionare soprattutto. Da questo talent mi aspetto di divertirmi e di far bene le cose che ho proposto.